Siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Luca Scacchi che oggi interviene in quanto responsabile dei docenti universitari dell'FLC-CGL per parlare di quest'ultimo tentativo di controriforma dell'università che sta portando avanti questo terribile governo di destra in Italia che cosa ci dici a questo proposito? Sì, grazie Renato e ciao a tutti ma diciamo come al solito come spesso è capitato Augusto ci regala momenti di accelerazione delle revisioni e dei cambiamenti degli impianti strutturali del sistema della formazione della ricerca essendo notoriamente dei mesi non solo di vacanza per tutti ma che cadono diciamo in un periodo di sospensione della partecipazione più di massa e della capacità di coinvolgimento di questi settori le scuole sono chiuse le università le università in realtà stanno aperte tutto l'anno ma a luglio e agosto sviluppano più un lavoro di ricerca amministrativo di preparazione dell'anno accademico successivo e quindi come dire si usano questi momenti spesso per approvare cambiamenti sostanziali ed è questo il caso in realtà si incrociano due due processi diversi che però in qualche modo tra di loro convergono anche nel ricordare nel come dire riattivare dinamiche che in realtà sono quelle di 15 anni fa cioè quelle della riforma Gelmini l'ultima grande contro riforma l'ultimo grande cambiamento dell'università italiana in qualche modo aveva concluso un trentennio di cambiamenti fu quella del 2010 quando l'allora ministra Gelmini nell'ultimo governo Berlusconi negli ultimi tempi del governo Berlusconi impose l'ultimo pezzo dell'autonomia universitaria cioè quella legge 240 del 2010 che in qualche modo intervenne sulla governance degli atenei e sullo statuto giuridico e la forma del lavoro dei docenti e dei giuricercatori dentro le università in qualche modo come dire piramidalizzando verticalizzando il potere dentro le università intorno ai rettori ai direttori generali e agli ordinari ma dall'altra creando un ampio precariato fu quella legge che introdusse in maniera organica negli organici dell'università alcune forme di lavoro precario che come FLC abbiamo definito la terra di mezzo perché gli assegni le borse ma diciamo così una parte anche dei ricercatori a tempo determinato non erano inquadrati pienamente né nello stato giuridico della docenza cioè in un rapporto di lavoro regolato per regge ma che ha una serie di diritti di rappresentanza dentro l'università né in un contratto nazionale quindi con le garanzie contrattuali ma non in questa terra di mezzo di rapporti di lavoro fondamentalmente individuali contratti individuali regolati per normative di Ateneo per regolamenti di Ateneo senza particolari diritti senza alcune indennità di disoccupazione con forme pensionistiche molto ridotte come la gestione separata per cui senza diritti senza rappresentanza e con retribuzioni bloccate o basse e quella legge creò appunto 15 anni fa questo vasto mondo di precariato che diciamo in questi anni è stato pari a circa 20.000 persone 25.000 persone facendo conto che i docenti universitari di ruolo usiamo questo termine sono circa 50.000 persone per cui diciamo raggiungendo una quantità molto significativa quella riforma 15 anni fa fu parallela a un altro processo che è stato un grande taglio delle risorse universitarie ricordiamo forse tutti i tre monti dentro l'università questa restrizione dei fondi fu molto più significativa che in altri settori del welfare e molto più significativa della scuola fu tra l'altro quasi un unicum rispetto all'Unione Europea in generale i paesi diciamo a tardo capitalismo i paesi dell'Ox nel senso che nel giro di 5 anni le risorse del fondo di finanziamento ordinario il fondo di finanziamento ordinario come dice la parola sono quella parte di risorse che lo Stato distribuisce a tutti i propri atenei pubblici per il funzionamento ordinario degli atenei pagare gli stipendi far funzionare le università il riscaldamento gli affitti che copre più o meno 70 allora l'80 oggi più o meno il 70% dei bilanci degli atenei pubblici un altro 15% viene dalle tasse degli studenti un altro 15% da fondi vari fondazioni bancarie enti locali fondi europei pochissimo qualche punto percentuale in realtà dai privati dalle grandi aziende o da fondi privati il fondo di finanziamento ordinario fu tagliato del 20% e nel giro di pochi anni si restrise del 20% il personale dell'università sia quello tecnico amministrativo sia quello di ruolo e conseguentemente si rimpicciolì si rattaprì tutta l'università italiana si persero più o meno 6-7 mila dottorandi su 15 mila si persero all'incirca 150 mila studenti su quasi un milione e 900 mila studenti facendo conto che l'università italiana era ed è l'università con il minor numero di iscritti e di laureati appunto in Unione Europea nei paesi Ocse noi laureiamo circa il 27% oggi dei giovani tra i 25 e i 35 anni in Unione Europea sono 47% per dare 20 punti e l'università italiana un milione e 900 mila iscritti dovrebbe avere per stare nella media europea 3 milioni e 300 mila iscritti in 4 e questo grande rattrappimento diciamo fu parallelo alla riforma Gelmini in qualche modo scusa Luca da che cosa dipende questo questo squilibrio così grosso tra l'Italia e gli altri paesi diciamo capitalismo avanzato almeno europei allora le 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 motivazioni in un processo così complesso ovviamente sono tante e diciamo da molti anni si ragiona su questo elemento tenendo conto anche un ulteriore dato che in realtà larga parte del gap è dovuto alla mancanza in quello che si chiamano gli undergrade degree cioè i corsi di laurea triennali corsi di laurea magistrali laureati in quennali nell'Unione Europea sono intorno al 22 24% da noi sono il 20 21% sono un po' meno ma diciamo così siamo come si può vedere molto più vicini alla media abbiamo qualche punto percentuale in meno la grande differenza è sui laureati triennali al primo livello che negli altri paesi europei coprono diciamo appunto il 25 26% il 24 a seconda dei paesi dei laureati e da noi sono qualche punto percentuale 5-6% lì si concentra la differenza e tra l'altro diciamo in questi ultimi 30 anni di riforme anche quando sono state portate avanti dal centro-sinistra perché molte riforme dell'autonomia portano il segno alla volontà di forze che hanno storicamente fatto parte della sinistra le due grandi riforme che hanno iniziato l'autonomia universitaria furono fatte da Ruberti che era un ministro socialista di quel partito socialista più vicino al PC che fu appoggiato da tutto il PC universitario da larga parte era il 1989 c'era ancora il PC e l'altro grande pezzo di riforma che è stata l'autonomia didattica porta il nome di Berlinguer il fratello di Enrico che fu un importante rettore presidente della conferenza dei rettori e ministro dell'università per qualche anno per l'appunto per cui in tutto quell'impianto si è sempre accusato la maggior responsabilità nella incapacità dell'università italiana di avere un'offerta professionalizzante diretta immediatamente all'entrata del mercato del lavoro tant'è che in questi 15 anni ci sono stati innumerevoli tentativi di costruire una gamba di questo tipo negli anni 90 ci furono i diplomi universitari con Berlinguer ci fu prima il 3 più 2 poi il 3 e 2 cioè prima un'idea di spezzare di creare questi due livelli e poi di rendere autonomo il livello basso totalmente dall'idea della magistrale negli ultimi anni abbiamo visto nascere le cosiddette lauree professionalizzanti e negli ultimissimi anni anche un pezzo di riforma poi portata avanti dalla stessa Gelmini e da Val di Tara cioè dal governo Meloni la riforma dei cosiddetti ITS le accademi professionalizzanti cioè si è intervenuti sull'offerta formativa in realtà tutte queste riforme hanno tendenzialmente sempre fallito cioè non hanno mai costruito uno sviluppo di massa del sistema della formazione terziaria almeno a livello triennale ma perché il problema probabilmente è stato da altre parti ne indichiamo due come FLC uno sono i costi un ampliamento del sistema triennale dell'ingresso vuol dire inserirsi e rivolgersi a un livello di massa e quindi di persone di famiglie che hanno molto meno disponibilità economiche l'università italiana è oggi insieme a quella olandese l'università più costosa dell'Unione Europea l'altra era quella inglese non quella della Gran Bretagna perché Scozia ha un sistema universitario molto più simile ai costi europei diciamola così ma l'università inglese è molto costosa ma oggi l'Unione Europea sono le università più costose con la differenza fondamentale che in Olanda c'è un diritto allo studio reale ci sono case dello studente c'è un contributo affitto significativo ci sono borse in Italia c'è un altissimo costo degli studi 2-3-4 mila euro annui a corso di laurea a seconda del livello e della tipologia una media più alta che diciamo non è stata abbassata anche da tutti gli interventi la cosiddetta no tax area perché la no tax area è riuscita a fare in modo che una parte anche consistente un 20-25% degli iscritti all'università non paghi le tasse universitarie però le entrate complessive delle tasse universitarie non sono diminuite sono rimaste su un miliardo e mezzo di euro come che si è creato questo miracolo le tasse degli altri sono aumentati molto per cui la classe media usiamo due figli di operai usando questi non rientrano nella no tax area e pagano tasse universitarie significativamente più alte appunto in medio sono sui 1500 1800 euro è iscritto però contando la no tax area in realtà sono mediamente più alte quindi se non ci stanno i figli degli operai nella no tax area che ci stanno i figli degli evasori nella no tax area ci stanno spesso beh come verrebbe da dire rispetto a tutto il sistema fiscale italiano chi ha un'ise e quindi una dichiarazione dei redditi bassa per cui tutta una serie di professionisti e poi ovviamente i figli di famiglia monoreddito piuttosto che figli di o persone diciamo che sono autonome perché i propri genitori sono morti o perché non vivono più con loro per cui hanno redditi molto bassi o persone e figli di lavoratori e lavoratrici che hanno stipendi più bassi di due famiglie operaie e come si è visto anche da recenti ricerche CGL ormai ci sono diciamo più di due milioni e mezzo di persone che guadagnano meno di 15.000 euro l'anno lordi perché fanno lavoro intermittente lavoro precario o lavoro nei famosi contratti infami pagati pochi euro l'ora per cui ci sta un pezzo significativo ma complessivamente le tasse universitarie sono alte e non c'è diritto allo studio è diventata famosa negli anni scorsi la vicenda degli affitti la denuncia delle organizzazioni studentesche le accampate sugli affitti alti e l'assenza di case dello studente anzi tutto il PNRR ha dato le case dello studente le nuove case studenti in mano ai privati dando direttamente fondi finanziamenti e piani di costruzione di nuove case dello studente che in realtà hanno prezzi di mercato di 7-800 euro al mese per una stanza qui particolarmente alti e poi d'estate sono anche utilizzati come città d'arte a Firenze Roma Milano come alberghi per turisti fondamentalmente facendo guadagnare ancora di più i privati per cui un pezzo di questa difficoltà sta appunto nella barriera d'accesso un altro pezzo secondo me significativo su cui si pone molta attenzione sta negli squilibri del mercato del lavoro italiano il mercato del lavoro italiano è spesso un ragionamento che ogni tanto fa eco è un mercato del lavoro che prende poco laureati paradossalmente si ha questa dinamica che l'Italia ha pochi laureati ma ha molti disoccupati che sono laureati però se si guardano i dati questo l'hanno notato alcuni sociologi di Torino un grande componente di questo elemento sta nella mancanza di due milioni e mezzo di lavoratrici pubblici se l'Italia in Italia c'è questa percezione errata che i dipendenti pubblici sono tanti no no è proprio falso non sono in questi anni come è stato denunciato perché a me da 15 anni abbiamo il blocco delle assunzioni di fatto e quindi sono diminuiti ma già prima non erano tanti a limite sono mal distribuiti che è un altro elemento ci sono settori molto in sofferenza e anche molto meno mettiamola ma se si prendono i dipendenti pubblici medi rispetto alla popolazione di paesi come la Francia la Spagna la Germania la Gran Bretagna e si prendono i dipendenti pubblici italiani e si vede che mancano circa due milioni e mezzo di dipendenti pubblici di questa larga parte sarebbero laureati se noi inserissimo nel mercato del lavoro italiano due milioni e mezzo di dipendenti pubblici in più vedremmo che da una parte il numero dei disoccupati diminuirebbe molto che a un certo momento ci sarebbe una fame di laureati e che tra l'altro una serie di quelli che vengono definiti net troverebbero posto di lavoro perché a questo punto una serie di laureati che oggi fanno un lavoro demansionato fanno i baristi nei ristoranti piuttosto che i benzinai come alcuni famosi film hanno mostrato negli ultimi anni raccontando di dottorandi o post dottorati che facevano i benzinai se tutta questa gente trovasse lavoro congruamente al proprio titolo di studio per questi tipi di occupazione si aprirebbe la strada perché quel titolo di studio non avrebbe si riequivirebbe tutto il mercato del lavoro questo manca e in realtà si fa fatica a costruire diplomi universitari o corsi di laurea triennali che trovino iscritti è perché in realtà chi dovrebbe andare a occupare quelle professioni sono i laureati attualmente perché non trovando altri posti di lavoro un'azienda preferisce assumere a quel punto il laureato quinquennale pagarlo come se fosse un laureato triennale per cui pagarlo meno all'inizio e avere il vantaggio di poterlo usare anche per mansioni più alte e in questo modo un laureato triennale avendo poche prospettive di lavoro preferisce continuare gli studi e provare a qualificarsi in più per cui è uno squilibrio più complessivo da questo punto di vista certo è che appunto ritornando al ragionamento iniziale la legge Gelmini produsse e i tagli di Tremonti di quella stagione produsse un'università ancora più piccola e ancora più sacrificata in realtà dopo il 2015 le cose migliorarono piano piano anno per anno aumentarono i soldi dell'FFO iniziarono ad esserci con la definizione che cosa è? l'FFO è il fondo di finanziamento ordinario aumentarono i fondi dello Stato e le università pubbliche e aumentò gli organici tornarono ad aumentare gli organici ci furono quello che nella definizione tecnica si chiamano i piani straordinari cioè una serie di risorse specifiche per aumentare le assunzioni aumentando proprio gli organici dell'Ateneo l'ultimo il più significativo è quello di Manfredi allora ministro Manfredi nel governo cosiddetto governo Conte II governo giallo-russo nel 2022 che diciamo prese un piano che è ancora in corso e che portava a un aumento strutturale più o meno di 5.000 docenti universitari rispetto ai 50.000 e per la prima volta anche apprendo all'aumento del personale tecnico-amministrativo perché il problema è che anche il personale tecnico-amministrativo è inovimento questa era un po' la condizione dell'università cioè si stava uscendo da un decennio perduto in cui l'università era diventata molto più piccola e solo lentamente stava ricrescendo e con il grosso problema di un'enorme espansione del precariato su cui piano piano si era riuscito a costruire alcuni miglioramenti l'azione sindacale nostra ma anche di movimento i ricercatori determinati le mobilitazioni del mondo precario che ci fu dopo il 2010 ottennero alcuni diritti per esempio la discol la disoccupazione per dottorandi assegnisti e costruirono una pressione per cambiare la legge 240 per creare una situazione di maggior scusa la legge 240 è la legge gelmini del 2010 scusami di questa riforma per togliere gli elementi del precariato e tutto questo diciamo esitò nel 2022 due anni fa in una riforma che prese il nome di Verducci dal senatore che presiedeva allora la commissione del senato che si occupa di scuole di cultura di istruzione e che disegnò una riforma che diciamo non migliorava le condizioni del precariato strutturale come dicemmo noi FLC come dissero le altre associazioni studentesche manteneva ancora un precariato strutturale con un lungo percorso prima di diventare di ruolo però ne migliorava alcune condizioni in maniera significativa in maniera particolare cancellava i cosiddetti assegni di ricerca , che erano dei co-co-co senza diritti e istituiva un vero e proprio contratto di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato che chiamo contratto di ricerca con alcune garanzie una pensione normale e la possibilità di pagare le tasse sembra ridicolo ma gli assegni di ricerca erano esentasse questo però non era un favore ai lavoratori e alle lavoratrici perché in realtà i lavoratori e lavoratrici che ormai sono persone di 30 35 40 anni non pagando le tasse non erano neanche fiscalmente capienti cioè non avevano diritto a tutta una serie di azioni di welfare che noi ci portiamo dietro nel nostro fisco scaricare le spese sanitarie scaricare le spese del mutuo scaricare le spese di istruzione dei figli della scuola materna e quindi in realtà non era un vantaggio per loro era un vantaggio per le università perché nel loro costo di lavoro non avevano quel pezzo del 20-25% di componente delle tasse e invece veniva definito e veniva definito anche un periodo meglio invece che un anno o sei mesi come era la normativa c'era l'obbligo di fare i contratti dei due anni e questo portava per capirci in termini materiali il costo di un rapporto di lavoro di questo tipo oggi che era intorno ai 24-25 mila euro annui come costo per l'Ateneo a parità di stipendio netto per il lavoratore e la lavoratrice portava il costo a 37-38 mila euro annui per l'università moltiplicato per due perché bisognava fare i contratti di almeno due anni lì ci fu un'enorme resistenza dell'università perché l'università era abituato a pagare poco perché tutto un pezzo della ricerca italiana sopravviveva grazie a questi costi bassi per cui c'era chi diceva ma così uccidete alcune filiere di ricerca scusa Luca per capire meglio visto che non mi pare che però in quegli anni ci fossero stati grandi mobilitazioni come mai c'è questo miglioramento come è nato in realtà diciamo fu il mondo dell'università non è un mondo grande per l'appunto e alcuni elementi di mobilitazione alcuni percorsi ci sono stati e non hanno raggiunto diciamo una visibilità o un livello di generalizzazione di massa però alcuni elementi di mobilitazione dell'università nel corso degli ultimi dieci anni ci furono e particolarmente del precariato e ci e si sentiva anche come dire in alcuni settori sia dell'università sia del mondo politico uso per certi versi anche questa definizione l'inerzia di una serie di mobilitazioni di attività di azioni di pressione continua che furono fatte negli ultimi dieci anni su questo elemento e appena come dire ci furono più risorse e quando si tornò a investire nell'università e alcuni settori di governo e anche alcuni settori dell'accademia che sono probabilmente minoritari lo sentirono un po' come dovere va bene cioè i primi a cui iniziamo a ricoprire a ricreare condizioni più più di garanzia sono chi è in condizioni meno meno protette c'è un secondo elemento che non è secondario anche se di questo si è parlato poco l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che per questo tipo di lavoro cioè per lavoro di ricerca a tempo determinato dentro l'università cioè di lavoratori e lavoratrici pubblici che hanno almeno una laurea magistrale come titolo di studio prevedeva forme di lavoro che non erano veri e propri contratto determinati nelle altre università nei paesi europei c'erano contratti variamente nominati spesso sono dominati post doc però non sono borse sono contratti di ricerca a tutti gli effetti con tutti i relativi costi e a un certo momento l'Unione Europea ha iniziato a dire ma perché in Italia avete borse di ricerca avete assegni cioè avete queste forme che non sono dei veri e propri contratti e a chiedere soprattutto per la rendicontazione dei progetti europei quel tipo di inquadramento lavorativo tant'è che quella riforma del senatore Verducci non casualmente è stata inserita per volontà dell'Unione Europea come pezzo come una parte significativa del dello stesso PNRR cioè un pezzo delle riforme anche diciamo non si è mai arrivati a avviare formalmente un'infrazione su questo elemento come su altri per l'università per esempio per i collaboratori linguistici l'Italia è stata condannata da tempo dall'Unione Europea per le condizioni non contrattuali non non proprie dei collaboratori linguistici però l'Unione Europea aveva iniziato a preparare tutte le carte per perché c'era evidentemente per cui ci fu questo elemento che portò diciamo così a costruire quel tipo di di riforma quel tipo di riforma è stata costruita normativamente è stata approvata il governo che l'ha fatto cadde e nel nuovo governo diciamo per volontà di un pezzo dell'accademia innanzitutto di un pezzo della crui dei rettori e delle università e per volontà di questo ministro non è mai stato applicato un pezzo di quella riforma dava esattamente ai sindacati la possibilità di contrattare la loro retribuzione una domanda forse per tempo a naif ma per chi nel settore non è così chiaro ed evidente perché noi siamo abituati a vedere che di solito quando interviene l'Unione Europea interviene sempre diciamo contro gli interessi dei lavoratori invece qui sembrerebbe che ci sia stato un intervento a favore e paradossalmente il mondo dell'università insomma invece di accoglierlo favorevolmente questo che significa la domanda magari è ingenua che forse nell'università c'è una situazione di particolare arritratezza per quello che riguarda i diritti dei lavoratori che addirittura una volta tanto l'Unione Europea interviene addirittura sì teniamo conto che stiamo parlando come dire di un settore del mercato del lavoro molto particolare diciamo molto formato cioè perché sono persone con lauree e con dottorato molto spesso cioè con titoli di studio di alta specializzazione come si dice e dove dentro l'Unione Europea in maniera particolare c'è una certa attenzione all'autonomia e alla libertà della ricerca da parte dei singoli ricercatori tant'è che alcuni principi generali proprio in relazione al tipo di contratto all'autonomia e alla libertà dei singoli ricercatori fa parte di un documento dell'Unione Europea che si chiama Carta dei Ricercatori che sia nel mondo dell'università sia nel mondo degli enti pubblici di ricerca tutte le organizzazioni sindacali chiedono da tempo che sia applicato perché è un principio importante teniamo conto forse questo anche conta che nel resto dei paesi europei il mondo universitario è molto più sindacalizzato che in Italia anche con grandi scioperi prendono in Gran Bretagna negli ultimi tre anni ci sono stati grandi scioperi del mondo universitario con impatti anche significativi in Italia questo c'è meno perché diciamo così anche se l'Italia ha conosciuto con gli anni 60 e 70 i grandi movimenti universitari di classe di quegli anni un cambiamento strutturale dell'università che non è più il luogo di formazione delle classi dirigenti e il ruolo di riproduzione sitte e semplicite del baronato universitario però alcuni elementi di quella cultura e di quella percezione sociale sono comunque rimasti dentro l'università italiana e anzi con l'autonomia universitaria si sono riaffermati in una logica un po' revanchista contro i movimenti degli anni 60 e 70 che attraversano anche la scuola come altri settori sociali in questa dinamica diciamo è passata un po' la logica io lo dico anche tra i miei colleghi uno degli elementi di difficoltà anche questi ultimi vent'anni che i docenti universitari non sono lavoratori e lavoratrici vere cioè non so come dire che sono un po' una casta a sé stante e quindi paradossalmente quello che è inconcepibile in tutti gli altri settori di lavoro tanto più dei settori di lavoro pubblico viene considerato normale nell'università per esempio che un laureato venga pagato con una borsa con una retribuzione e non dentro un reale l'apporto di lavoro anche se lavora per due anni con una selezione che comporta un altissimo titolo di studio per esempio anche un dottorato è una roba che negli altri paesi europei è inconcepibile nel senso che appunto viene considerato normalmente non solo un lavoro ma un lavoro ad alta qualificazione che è normalmente più garantito in Italia paradossalmente viene quasi come dire attribuito che tu lavori per la gloria o che ti viene a te fatto un favore da parte del docente universitario che ti cocede di continuare a studiare o di essere ammesso nell'empire dell'accademia mentre questi sono semplicemente lavoratori e lavoratrici che vanno tutti i giorni a lavorare che hanno alcuni compiti di lavoro e che però non sono trattati come tale e quindi paradossalmente l'Unione Europea con le sue normative vale per i ricercatori ma vale appunto anche per i lettori dell'università questa figura spesso ha e spinge a costruire normative più di garanzia rispetto alla condizione italiana scusa un'altra domanda sicuramente per te ingenua ma forse per chi non fa un po' complicata da capire da quello che capisco quindi ci sta una condizione soprattutto per i lavoratori più giovani per così dire di proletarizzazione dei lavoratori dell'università e questo come mai non favorisce diciamo per così dire la coscienza di classe almeno a livello più immediato diciamo del trade unionismo delle lotte sindacali e quindi pure dell'iscrizione a un sindacato per tanti motivi in parte c'è per esempio il mondo del precariato universitario negli ultimi 15 anni in questi 10 anni di cui abbiamo parlato finora è stato uno dei settori più attivi che si mobilitava che si organizzava con forme sindacali che compare a sindacali anche con forme sindacali nel senso che a un certo momento anche il numero di iscritti alle FLC precari è iniziato a diventare significativo ma al di là degli iscritti al sindacato diciamo aveva forme associative l'associazione dottorendi italiani l'ARTED che sono forme associative coordinamenti o comitati che in realtà iniziavano a dargli forme organizzate in un contesto difficile perché l'università italiana è molto frantumata con l'autonomia universitaria ogni università ha un'autonomia nel definire regolamenti e anche una differenziazione reale perché una cosa è farlo al Politecnico di Torino con una certa condizione economica e una cosa a Cosenza all'Università di Cosenza con un'altra per non parlare sempre di Nord e Sud all'Università dell'Insubria o al Politecnico di Milano che discano 50 km ma hanno condizioni economiche molto diverse e dall'altro con rapporti di lavoro molto individualizzati in cui ogni singolo precario è inserito in un gruppo di lavoro magari sono due o tre ma è isolato anche nella propria attività quotidiana dagli altri per cui c'è veramente bisogno di un lavoro di ritessitura dei contatti e dei rapporti in un contesto dove appunto la concezione che spesso viene dai docenti universitari quel nel ruolo è esattamente quello del del criceto che deve correre per pubblicare per essere più bravo degli altri con questa logica competitiva nel mondo della ricerca si dice publish or perish che è il nome di un programma proprio per valutare le tue pubblicazioni l'impatto delle tue citazioni che ormai è diventato molto famoso e quindi c'è stato un po' questa dinamica che ha mantenuto e che mantiene tuttora molto frammentato questo mondo del precariato universitario che però che ha numeri significativi per l'università italiana ma poi complessivamente sempre ridotti cioè stiamo parlando di 25-30 mila persone in Italia 35 mila 40 se ci mettiamo dentro i dottorati che è un numero significativo rispetto all'università italiana ma sempre relativamente ridotto per costruire una dinamica di mobilitazione di massa da quel punto di vista visibile anche all'esterno del mondo universitario per cui questa è stata un po' la dinamica di questi anni tenendo anche conto che è un mondo in estremo ricambio cioè gente che magari sta 5-6-7 anni in università magari anche conforme in cui per due anni un contratto per sei mesi no poi per un anno il contratto poi per sei mesi no per cui anche con una scarsità di continuità o magari hai un contratto in un'università e poi in un'altra università per cui ti sposti anche per cui con la necessità di ricostruire legami sul territorio nell'atenio per agire collettivamente all'interno della propria realtà per cui ci sono alcuni elementi strutturali che rendono molto più difficile costruire una dinamica collettiva di organizzazione di azione sociale detto questo la condizione che Vertucci impose dentro anche l'Unione Europea era in qualche modo di maggior garanzia c'erano anche i soldi per fare questo perché nel frattempo dall'Università Italiana sono arrivati 10 miliardi di euro del PNRR per cui i soldi del PNRR potevano in parte erano anche indirizzati esattamente come dire a creare quei contratti a coprire quei maggiori costi che la nuova forma di lavoro avrebbe dovuto portare e qui è intervenuto con la parte di Accademia che non lo voleva il MEF mitico Ministero dell'Economia e della Finanza che ha un livello di pervasività nell'azione concreta delle diverse enti pubblici che è molto alto nel senso che è un lavoro di controllo e di verifica e che inizia a dire però a voi questi contratti li dovete fare in varianza di spesa per cui che è una contraddizione dei termini cioè dare più garanzie e dare più costo complessivo però in varianza di spesa e tutto questo ha fatto in modo che il Ministero nei due anni non ha dato chiare indicazioni e non ha fatto chiudere il contratto per cui di fatto ha bloccato la messa a terra concreta dei contratti di ricerca e ha continuativamente rinviato la fine degli assegni di ricerca cioè assegni di ricerca RTDA sono strati prorogati in questi anni tra l'altro con l'arrivo dei tantissimi soldi del PNRR tutti su larga parte su attività di ricerche temporanee questo numero è enormemente aumentato per capirsi prima del PNRR gli assegnisti di ricerca erano 15.000 oggi sono circa 22.000 sono aumentati il 50% i ricercatori a tempo determinato quelli non inseriti negli organici universitari erano 4.500 oggi sono circa 9.000 qui sono raddoppiati c'è stata una significativa espansione di questo mondo esattamente con quei soldi che terminerà tra il 2020 i loro contratti si chiuderanno tra il 2025 e il 2026 in questa situazione in questa condizione arriviamo a questo decreto di legno di legge che è stato approvato la ministra Bernini diciamo ha preso ha costruito già lo scorso anno un gruppo di lavoro ministeriale a cui ha messo capo Ferruccio Resta Ferruccio Resta era ex rettore del Politecnico di Milano che mentre Verducci costruiva quel tipo di riforma nel 2022 su spinta del sindacato dei movimenti di quello che era in piedi in quel momento lui da presidente della Cruy fece uscire un documento e diceva no dobbiamo moltiplicare le figure precarie cioè dobbiamo crearne molte di più quel documento allora come dire fu archiviato dalla storia uso questo tipo di nel senso in quella dinamica non fu recepito da nessuno e sparì però la Bernini lo ha riattivato ha messo lui come presidente e di pratica da quel gruppo di lavoro è uscito la bozza di questo disegno di legge che è stato presentato e approvato dal Consiglio dei Ministri l'altro ieri e che cosa fa questo Consiglio questo bozza di legge non cancella il contratto di ricerca che viene mantenuto viene mantenuto anche perché l'Unione Europea continua a dire mi devi dare un contratto che valga per i fondi europei ma crea la ministra la chiama la cassetta degli attrezzi tante altre figure precarie crea una figura che viene chiamata postdoc che è un contratto a tempo determinato anche quello in pratica è uguale al contratto di ricerca però invece che durare due anni può durare un solo anno aumenta la flessibilità temporale poi inventa due borse di ricerca vengono chiamate borse per l'assistenza di ricerca una junior e uno senior con due retribuzioni diverse non si sa ancora quali saranno perché verranno determinate dal ministero con un futuro decreto però dal disegno di legge già si capisce che verranno pagate meno di come sono pagate oggi un contratto di ricerca o un postdoc e sarà uno diciamo accessibile anche solo con la laurea l'altro accessibile con un dottorato e sono in pratica il ritorno degli assegni dei co-co-co borse di ricerca per cui che non pagano tasse perché la legge italiana prevede che per le borse non si pagano tasse e che hanno qualche forma di garanzia per capirsi la maternità la malattia e probabilmente la discol come valeva per gli assegni e però di nuovo torniamo però diciamo la moltiplichiamo perché creiamo altre due figure e addirittura viene introdotto anche un ulteriore elemento che mentre fino ad oggi anche per queste forme tutte tu dovevi fare un concorso pubblico ogni volta che un docente doveva assumere un progetto di ricerca o un corso di aula una di queste figure nel linguaggio universitario si diceva fare una valutazione comparativa usciva un bando le persone rispondevano al bando e si valutava sul curriculum sui titoli sui criteri che era il migliore oggi viene stabilito per le borse che sono finanziate da progetti di ricerca competitivi da fondi competitivi da fondi europei o nazionali come i PRIN ci può essere la chiamata diretta torniamo a quelli che per l'università si chiamavano gli assistenti prima degli anni 80 il barone di turno decide che lui è quello che voglio e posso sceglierlo direttamente che è un passo indietro anche nelle forme e nelle modalità particolarmente significativo viene introdotta un po' come dire stabilizzata la figura dello studente collaboratore di ricerca in realtà in pratica c'è già 150 ore oggi gli studenti nelle università pubbliche possono chiedere di lavorare 150 ore come forma di contributo al proprio mantenimento sono retribuite sono 150 ore che spesso vanno a lavorare vanno a collaborare con i servizi universitari con la segreteria studenti con l'ufficio orientamento in molti Atenei collaborano anche a livello ovviamente molto iniziale a ricerche lavorano ai convegni lavorano come hostess ai convegni piuttosto che nell'inserimento dei dati nella distribuzione dei questionari in lavoro operativo usiamo questo per cui non è una gran novità viene introdotto un'ulteriore figura che è chiamata il professore aggiunto che anche questa è una figura curiosa sono contratti che possono andare ai tre mesi e ai tre anni pagati quanto si vuole cioè senza nessun limite basso ma anche senza nessun limite alto per attività didattiche di ricerca o di terza missione terza missione vuol dire convegnistica o attività diciamo di diffusione disseminazione culturale per fare qualunque cosa mi viene da dire in maniera molto libera e la particolarità è che viene fatto anche qui per chiamata diretta senza concorso ma chi è che fa questa chiamata diretta il consiglio amministrazione sentito il senato accademico cioè con una centralizzazione nelle mani dei vertici universitari addirittura senza nessun coinvolgimento delle strutture didattiche oggi per decidere chi è un docente a fare la commissione a valutare quel contratto sono sempre i dipartimenti qui viene chiamato fuori in maniera verticalizzata in una figura che la ministra ha chiamato spesso come dire la possibilità di chiamare il grande docente da fuori di fare il contratto sulla singola persona come si vuole in realtà come facilmente si può capire nel momento in cui hai così tante figure ogni ateneo potrà liberamente scegliere quella che vuole a seconda delle sue esigenze disarticolando il quadro e l'inquadramento del lavoro di ricerca ma tutto questo cerco di chiudere per non essere troppo lungo ma acquisisce un senso nuovo e in qualche modo un senso vecchio ricordando il 2010 se pensiamo che tutto questo verrà messo a terra in un'università italiana che improvvisamente avrà molti meno fondi di prima perché non solo i fondi del PNRR quei 10 miliardi di euro finiscono nel 2026 ma il governo oggi si ritrova con l'applicazione di nuovo stretta del patto d'austerità europeo il nuovo patto d'austerità definito all'inizio di quest'anno ma al contato sono già uscite le prime proiezioni vuol dire che ci dovranno essere interventi ogni anno per i prossimi 5, 6, 7 anni nelle leggi di bilancio di 10-15 miliardi di euro all'anno di tagli chiamiamola così questo al netto dei fanno ed è tutta la discussione politica che già un po' emerge in quest'estate di tutta una serie di provvedimenti fatti dal governo Meloni negli scorsi anni che però non erano strutturali e quindi devono essere rifinanziati il taglio al cuneo fiscale alcuni elementi sulle pensioni per evitare diciamo la piena vigenza della fornero gli assegni familiari eccetera eccetera per cui la prossima manovra di bilancio sarà una manovra di bilancio complicata ma non solo quello c'è già una situazione di difficoltà di finanziamento dell'università allora noi lo abbiamo segnalato come flc già a partire dall'ottobre scorso abbiamo fatto a firenze in giro lo si può andare a vedere sui siti google un'assemblea nazionale che abbiamo chiamato la nuova emergenza università perché già a settembre è rividente che siccome i soldi del fondo di finanziamento ordinario erano aumentati ma questo aumento faceva tetto cioè a un certo momento hanno smesso di aumentare e però i costi aumentavano i problemi si sarebbero evidenziati e aumentavano perché aumenta l'inflazione per cui è aumentato il gasolio per il riscaldamento è aumentato l'affitto è aumentato i costi generali e perché è aumentato significativamente il costo del lavoro in questi anni si sono rinnovati i contratti pubblici certo poco sappiamo anche molto meno dell'inflazione ma per esempio per andare all'immediato dal primo gennaio 2025 gli stipendi tecnici e amministrativi dell'università aumenteranno del 3,5 come indennità di vacanza contrattuale sappiamo già indipendentemente se si firmerà un nuovo contratto dal primo gennaio di quest'anno verrà deciso fra qualche mese in termini reali ma si sa già del 2024 quindi con tutti i relativi arretrati gli stipendi del personale docente aumenteranno del 4,9% perché incamerano gli argomenti contrattuali degli scorsi anni del personale tecnico amministrativo ah mi hanno calcolato mal contati questi stiamo parlando di 200 milioni di euro questi aumenti per tutta l'università italiana se l'FFO rimane uguale ma aumenta l'inflazione il punto di finanziamento ordinario se i soldi che lo Stato ti dà rimangono uguali ma aumentano gli stipendi e da qualche parte questi soldi devono venire fuori per cui l'università deve tagliare altre cose già a ottobre noi dicemmo guardate che nel 2025 nel 2026 alcuni atenei faranno fatica a chiudere i conti perché non avranno i soldi per pagare questi momenti universitari a meno che non torneranno a bloccare le assunzioni piuttosto che a tagliare dei servizi già allora lo dicemmo e quest'anno proprio 20 giorni fa è venuto anche ai giornali in maniera evidente è arrivato un pezzo ulteriore che i fondi del fondo di finanziamento ordinario di quest'anno del 2024 per cui come dire i fondi a disposizione con la legge di bilancio del 2023 si è visto che in realtà sono molto minori cioè quando c'è uscito il decreto che assegnava i fondi concretamente agli atenei si è visto che in realtà c'è stato un taglio di 500 milioni di euro questo taglio di 500 milioni di euro insieme alla mancanza degli aumenti per coprire gli aumenti contrattuali scombini i bilanci c'è stata una litigata palese tra la crui per la prima volta nella storia italiana che ho visto la crui prendere posizioni con il finente contro un ministero e contro e dare un parere negativo al decreto ministeriale che assegnava questi fondi e che segnala come mancano all'appello 500 milioni di euro per capirsi stiamo parlando di 500 milioni di euro su 9 miliardi complessivi di finanziamento per cui stiamo parlando del 5% un po' di più 7% dei fondi che mancano e diciamo una proiezione fatta da noi ma anche da alcuni settori universitari di governo diciamo del sistema universitario e ci dicono che se la situazione rimane così due terzi degli Atenei nel 2026 non chiudono i bilanci il che vuol dire che nella situazione attuale si ritornerà alle ricette o di aumentare le tasse agli studenti l'unica cassa immediata come è stato nel 2010 negli anni 90 o di bloccare le assunzioni e questo sta già succedendo cioè la reazione immediata già sul 2024 che gli Atenei hanno avuto è di dire vabbè chi va in pensione per il momento non lo sostituiamo abbiamo tempo tre anni perché quando si liberano i soldi di uno stipendio tu hai tempo tre anni per rimpiegarli vabbè per il momento prudenzialmente anche grossi Atenei importanti oltre che i piccoli Atenei che hanno più immediatamente problemi economici hanno detto vabbè per il momento ce li mettiamo lì e vediamo se per cui stiamo andando a un blocco del turnover si dice un blocco dell'assunzione di fatto ma probabilmente tutto questo non basterà e vedremo cosa succederà nel senso che quello che probabilmente succederà di nuovo è un taglio di servizi e di attività universitarie in quell'università che è già molto più attrappita delle altre università europee in tutto questo questa legge che facilita il precariato ci dice che gli Atenei che avranno difficoltà inizieranno ad assumere borsisti che pagheranno molto poco invece che contrattisti di ricerca o postdoc che dovranno pagare più cioè diventa una legge per gestire con un ulteriore rilancio del precariato quello che noi abbiamo chiamato il nuovo grande inverno dell'università italiana sì scusa proprio per concludere su questo ultimo aspetto visto che si preannuncia questo questo nuovo inverno all'interno di quella che mi sembra per molti aspetti una riscossa addirittura del baronato che potrebbe poi colpire pesantemente anche il diritto allo studio gli studenti eccetera eccetera questo potrebbe rilanciare un grande movimento come ci fu ai tempi della Gelmini questo è diciamo la nostra speranza e il nostro impegno nel senso che noi già diciamo con altre associazioni in realtà del mondo universitario devo dire che appunto l'università italiana è sempre stato un mondo un po' a parte anche nelle dinamiche sindacali associative per esempio durante il 2010 nel tutto il decennio successivo in università su queste questioni si è mosso un intersindacale che andava dal Cobos e USB piuttosto che associazioni radicali del mondo universitario come Rete 29 Aprile olandu che hanno per anni fatto vivere il mondo universitario a alcune associazioni professionali il Cipur il CNU che sono associazioni della docenza universitario al mondo sindacale più stretto l'FLCCGL in primo luogo ma anche la Cisela della Will in alcuni momenti e il mondo associativo degli studenti dei dottorandi dell'ARTED cioè c'è stato questa soggettività poliedrica che agita unitariamente uno degli elementi che ha permesso anche l'approvazione della Verducci durante quella discussione di legge ci fu un ampio antirsindacale che unitariamente chiese quel tipo di intervento e non fu in una fase di così grande divisioni sindacale politica sociale un elemento che non ha pesato poco anche sul quadro parlamentare politico noi speriamo di riattivarlo i contatti sono già presenti l'estate è un periodo di campeggi di congressi di confronti di confronto e da autunno noi come FLC lavoriamo per cercare di riproporre un quadro di mobilitazione unitario con un rischio in più rispetto al 2010 questo quadro e questo mondo è molto meno ricco perché questi 15 anni di sconfitte in qualche modo e questa logica competitiva ha penetrato dentro gli atenei e soprattutto diciamo abbiamo notato più volte tendenze negli ultimi anni a far partire mobilitazioni di singoli settori parallelo un po' come è avvenuto nella scuola dove si è passati negli ultimi 15 anni ai grandi movimenti dei precariato al movimento degli docenti delle magistrali a quelli della SIS a quelli dei diversi settori o delle diverse caratteristiche nell'università abbiamo avuto movimenti negli ultimi anni che andavano a richiedere gli interessi dei ricercatori a tempo determinato che volevano l'avanzata dei professori associati che volevano questo diciamo di singoli atenei o di singoli settori c'è un mondo molto più corporatizzato molto più disperso per cui uno dei problemi è quello che magari nascano mobilitazioni ma che abbiano un sapore più specifico più settoriale come FLC CGL noi ci stiamo impegnando per riattivare una mobilitazione per riattivarla il più unitaria possibile dal personale tecnico amministrativo a questo mondo di mezzo del precariato al mondo della docenza all'ordinario stesso non so come dire che deve difendere il quadro di un'università pubblica di massa democratica e questa richiesta va fatta sui fondi ma anche su come gestirli anche sui modelli di gestione democratica dell'ateneo questo è un po' lo sforzo e l'impegno e la speranza che noi abbiamo di riattivare questo perfetto con questa nota di speranza chiudiamo grazie Luca alla prossima alla prossima